Salve a tutti ragazzi, in quest'oggi inauro una nuova rubrica in cui consiglierò dei canali a voi utenti. Oggi vi consiglio di iscrivervi a questo canale, si chiama DadoKit1, e parla del tuning dei Windows, è consigliato naturalmente per i possessori di PC con Windows, come brucizzare il computer, come togliere i programmi maligni, soprattutto ecco, ci sono molte roba sui temi e cose del genere. Casualmente ho visto questo video, iscritti, un link senza password, con una serie di cosine carine che dà un omaggio per scaricare dei gemi, dei ricordi, dei programmi carini, per abbedire il proprio sistema. Bene, spero che vi iscriviate a questo canale, saluti a tutti e al prossimo giovedì.